E' un reato, è un atto gravissimo, agghiacciante, che viene ripetuto, non è che lo fanno una volta, lo rifanno. Nel caso di che queste persone si comportano, hanno buona condotta, allora anche Veronesi era a favore della castrazione chimica, è un processo irreversibile e elimina completamente, mi spiace dirti, io te lo dico dal lato scientifico, la libido e lo rende inoffensivo, in altre parole lo disarma, cominciamo a provare con questi banditi che violentano i bambini e mettiamo l'ergastolo per chi violenta un bambino e lo danneggia per tutta la vita, quanto siete buoni!